Il problema è che sono tutti così. Sono io che sono scemo, che mi scrivo le info delle ragazze, che mi ricordo e mi faccio il rap, cioè sono io quello coglione, cioè in realtà è normale, non ti ricordi? E' un problema, cioè perché quello coglione è quello che scopa, quelli che si dimenticano le cose, che non sanno niente della ragazza, non se ne scopano. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approciala.it, un'azienda in formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Quindi, per questo è un numero italiano. Lei potrebbe essersi fatto con la sim italiana da quando è qua in Italia? Non si sarebbe fatta soltanto la sim italiana da quando è qua in Italia? Molto probabilmente non ha Whatsapp sulla sim italiana, ha Whatsapp sulla sim del suo paese. Quindi tu dovrai chiederle dov'è che ha Whatsapp, è vitale questa cosa quando una ragazza è di un altro paese. Le chiedele il numero italiano o il numero di paese X. Ti dirà, il numero italiano o il numero di paese X. E poi le chiedi, hai Whatsapp sul, ti dice, ho il numero italiano. E ti chiedi, hai Whatsapp sul numero italiano oppure ce l'hai? Sul tuo paese X. È vitale. E comunque, tu non puoi uscire dall'interazione senza averle mandato il messaggio, senza esserti accertato di dov'è che le scrivi. Poi ti trovi che, o come la contattiamo? Tu l'hai fatto uno squillo quando lì? Hai provato a verificare il tuo momento? Sì, allora il mio numero l'ho salvato. Ok, ma hai fatto uno squillo o qualcosa per vedere se cattivate il numero? Non mi ricordo se io ho fatto io lo squillo o come. Lo squillo io l'ho fatto sicuramente. Gli hai fatto sicuramente o sai che gliel'hai fatto? Prova a vedere nelle chiamate, vediamo. Allora, recenti. Adriano, sì, giovedì. Quindi io le ho fatto lo squillo. E lei ha squillato il telefono? Sì, e lei ha salvato il mio nome. Ok, quindi sappiamo che quello è il suo numero, però non ha Whatsapp, avrà Whatsapp di sicuro sulla sim del suo paese. Se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine, a portare al diretto nuove ragazze regolarmente, allora clicca sul link qui sotto in descrizione e prenota una consulenza gratuita.